Si dissolve Samadhi in sanscrito significa assieme al Signore. È uno stato di trance in cui lo yoji diviene uno con l'oggetto della propria meditazione, lo Spirito Supremo. Il pensiero si dissolve nella sua origine, la coscienza pura, e sparisce ogni dualità tra il Conoscitore ed il Conosciuto. Commento Il Samadhi equivale all'estasi della tradizione spirituale occidentale. Molti si chiedono perché in Oriente la medianità è quasi sconosciuta, perché è sorrogata dalla meditazione che, nei suoi vertici, è una trance, come l'estasi nella preghiera.